ciao ragazzi siamo qua in un ufficio dove stiamo organizzando tantissime belle cose sì siamo qui Firenze si avvicina e adesso vi racconteremo di quello che stiamo organizzando siete pronti per Firenze stiamo organizzando una gita pazzesca parte di 14 giugno andiamo a Firenze dove verrà inaugurata la mostra di collaborazione tra Opiccio Zappa e IED, Accademia di Belle Arti di Como Accademia Galli con il quale abbiamo collaborato al workshop appunto per realizzare delle magliette che verranno esposte a pizzi Firenze quindi a breve riceverete sulla pagina dell'Opificio e sulla pagina dell'IED le informazioni su questa gita sarà un'esperienza fantastica e aperta a tutti quanti qui e qui si è già super super operativi, reduci dalla bellissima gita di domenica dunque abbiamo scoperto che ci si diverte a stare insieme e a Firenze non ci divertiremo altrettanto ciao ragazzi ciao 14 giugno e quindi salutiamo con un bel 50 ciao 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 ciao